3, 2, 1, 3A, 100, 3D, alla zebra 3D, 50, occhio Luca, 50, 3A, e 5D, e 5D, in 5A. In 5A, 200, occhio, 5A, che è un incidente Luca, 5A, in 4D, in 4D, in 5D, in 6A lunga, 6A lunga, e 5D, 40, molta attenzione, scicanti, entra da sinistra, 40, eccola qui, 2D, in 2A, wet, in galleria, umida qua eh, in 6D, 50, 6A, sotto, subito, alla zebra, 3D, subito alla zebra, 3D, in 4A, sa meglio in 5A, e 4A, sotto, in 3-D, gira, 3-D, gira, subito qua, 50, 6D, in 5A, al cartello, 5A, 5A, sotto, in 6D, in 6D, in 3A, occhio qua, in 2D, 5A, in 3D, in 3A lunga, al cartello, chiude 2, eccola qua, 4D, chiude 3, in 2A, in 2D, in 2A, 20, tornate destro, 2A, 20, tornate destro, stai tranquillo, 20, 3D, in 4D, in 4A, 20, tornate sinistro, e 2D, in 4A, in 3A, in 3D, in 5A, in 6D, in 3A, 3A, in 3-D, 3-D, in 3A, 50, alla casa, tornate destro, tornate destro, sinistro, in 5A, in 5A, 50, 2D, in 3A, in 3A, 3D, 2 tempi, 3D, 2 tempi, in 4A, in 4A, in 3D, e occhio, tornate sinistro, sinistro, 2D, in 4A, in 4D, 20, 4A, 2 tempi, chiude 3, subito 2D, chiude 3, subito 2D, per 5A, in 6D, 2 tempi, 20, tornate destro, tornate destro, come i freni, in 5A, 2 tempi, 3D, in 2A, 3D, in 2A, in 4D, subito tornate sinistro, 5A, in 5A, in 5A, in 4A, in 5A, in 5A, più Pro... 20, tornate destro, tornate destro, 20, 3A, per tornate sinistro, per tornate sinistro, tornate sinistro, 3D, 50 5D 50 Tornante destro 50 2A In 3D 2A In 3D chiude 2 Chiude 2 In 5A 20 3D Tornante sinistro 20 20 2A In 3D 2 tempi 2 tempi In 2A 2A E 3D E 4 E 4A 20 3A In occhio 3-A 3A qua In occhio 3-A Subito tornate destro Subito tornate destro 3D 20 3D Per tornante sinistro 3D Per tornante sinistro 5A 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 Occhio 3A 3A In tornante destro 3A 3A In 3D 30 6A In 3D In tornante sinistro In tornante sinistro Tornante sinistro 20 2A 50 4A E 2D E 2D 4A E 2D In 1A In 1A E 1D 1D In 3A In 3D 20 20 3D 20 Occhio 1A In 1D 3A Per 3D In 2A In 2D Per tornante destro Madonna 10 2A In 3D 2A In 2D Alla galleria 30 Al cartello 6A 6A 10 3D In 1A In 2D In 2A In 3D In 3A 20 Tornante sinistro 3A 3A In 2D Scusa 4A 3D E 3D ancora In 2A In 2A In 2A In 2A In 1D In 3A Subito Tornante destro Tornante destro 30 4D 20 Shikan Shikan Stai a destra Subito tornate sinistro Spacale qua Appena dopo questo Shikan Destra Subito tornate sinistro 5D In 4A In 4D 5A 20 3D 2A Questo è 3D 54A 56D 200 3A Prova Bravo Luca Bravo Luca